Ciao a tutti, sono qui con il nuovo album delle Luna e ho scelto questa versione che adesso non mi ricordo quale sia, ma ce n'erano tipo quattro e io ho scelto questa perché era la mia preferita in assoluto. Ah, qui abbiamo le tracce Why Not è stupenda. Adesso vi faccio vedere, ah, aspettate perché ci sono le fotocard. Ok, ecco qua, abbiamo il cd che non riesco a prendere come sempre. Ok, eccolo qua. E il photobook. In assoluto il photobook era quello che preferivo. Con le All Star, bellissimo, vestito e All Star. Mi è rimasta in testo un sacco la canzone, la title di questo album. Mi fa impazzire. Kim Lip. Che bella. Che ci sono. Fino a me da adesso avrò due album delle Luna, visto che ne avevo solo uno. Devo recuperare quelli che sono usciti prima. Quelli con più canzoni perché quelli, i suoli, non li prendo. Sennò, a parte che sono tantissime. Olivia, bellissima. Tracce. L'universo, mi piace un sacco. E' definito così, credo, sì. Ok, adesso vi faccio vedere. Allora, qua abbiamo gli adesivi. Poi ci sono tre foto. Ah no, c'è anche questa. Con le varie tracce. Uh, che figo. Folografico. E poi ci sono tre foto che hanno tutto il retro rosso. Quindi, adesso ve le faccio vedere una a una. Se mette a fuoco il mio telefono. Perché non metta a fuoco? Pronto. Aspettate. Oh, ce l'ha fatta. Allora, la prima foto, car. Oh, ho trovato JinSoul. Che bella che è. Ho trovato JinSoul. E poi la seconda. Oh, Kim Lip. E l'ultima. Pensavo che ci fossero più... Foto cara selfie, ma quando parli... Oh, Olivia. Questa selfie, appena detto. Credo sia un random dentro. Oh, che belle che sono. Bene. Questa qua è la mia preferita in assoluto. Per questo unboxing è tutto. E noi ci rivediamo alla prossima. Ciao. Ciao.